Network Contacts è uno dei maggiori player nel settore del BPO, del Business Process Outsourcing, un'azienda giovane, dinamica, tutta italiana, fortemente radicata nel mezzogiorno, in particolare in Puglia, con sedi a Roma e a Milano. Offriamo servizi nel mondo del Customer Operations, in particolare del Customer Care, del Direct Marketing e della Digital Interaction. Forniamo un'ampia gamma di servizi di Outsourcing, di sviluppo software e di consulenza IT per importanti clienti nazionali e internazionali nel settore delle telecomunicazioni, dell'Energy, dei media, dell'Automotive e dei servizi finanziari e assicurativi. La fonte di creazione di valore di vantaggio competitivo per i nostri committenti. Le nostre risorse essenziali sono due, le nostre persone, il loro impegno, la loro passione, la loro professionalità e le tecnologie di cui ci avvaliamo. Per offrire un servizio clienti di qualità è necessario gestire ogni singola interazione con eccellenza. Microsoft Dynamics CRM contribuisce ad aumentare l'efficacia e l'efficienza degli operatori, garantendo loro una vista globale ed unificata sul cliente, in modo da gestire efficacemente tutti i processi, indipendentemente dal canale di utilizzo. Uno dei principali benefici offerti da Microsoft Dynamics CRM è la possibilità offerta dal cloud di attivare rapidamente nuove istanze per ogni singolo nostro cliente. Abbiamo quindi implementato una soluzione basata su Microsoft Dynamics CRM per circa mille postazioni operatori, che ci consente di supportare i nostri clienti nella definizione di una strategia di contatto multi e cross canale. Il progetto si completa con i moduli Dynamics Marketing, Social Engagement e Paratour dedicati ad un team di eccellenza. Possiamo offrire ai nostri clienti servizi più personalizzati e ad alto valore aggiunto e quindi diventare più efficaci, più efficienti e aumentare il nostro vantaggio competitivo. Abbiamo un piano strategico ambizioso di espansione internazionale e di crescita del fatturato. La tecnologia per raggiungere questi traguardi è essenziale come elemento abilitante del lavoro delle nostre persone.